Ma cos'è successo con sto Mike Tyson e con Jake Paul? Porca miseria, questo mondo sta veramente... non lo so, non so cosa sta succedendo. Ho fatto io box, kickboxing, krav maga, comunque arti marziali, per un bel po' nella mia vita, diciamo che ho dedicato questi ultimi anni un po' anche a quello, come allenamento, mai a livello professionale o mai a livello agonistico, però diciamo che mi sono un po' appassionato e Mike Tyson chi è che non lo conosce? È un po' una leggenda. E quindi vedere uno show del genere mi ha veramente proprio deluso. E quando ho visto che cos'è successo all'incontro con Jake Paul, diciamo che all'inizio speravo veramente che non fosse qualcosa di... Cioè, innanzitutto ho detto, vabbè, sarà sicuramente scriptato, quindi sarà sicuramente un copione, è uno show, vabbè. Poi ho detto, ma sai che forse non lo so come può andare, perché alla fine Jake comunque la sua figura l'ha fatta, eccetera, comunque magari è semplicemente una cosa autentica. Poi è successo ed è veramente, veramente, veramente brutto. Quindi oggi voglio guardare con voi le highlights di questo evento e parlarvi della mia opinione su questo. Io non ho niente contro Jake Paul, anzi, per un periodo della mia vita, quando ero piccolo, seguivo Logan, suo fratello, solo che ho sempre visto un po' Logan e Jake poi pian piano entrare sempre di più nell'ambito quasi trash, nell'intrattenimento esagerato americano, classico americano, no? E quindi diciamo che sono... ho smesso un po' di seguirli, ma più che altro, soprattutto Jake, perché l'ho sempre visto un po' come quel fratello che comunque è un po' sotto l'ombra del fratello più grande e quindi in qualsiasi modo è come un po' il figlio di Will Smith, no? Jaden. Dà un po' quell'impressione di quelle persone che cercano in tutti i modi, cioè sono nati con tutto, ma non hanno quella fama di quelli che li ha portati lì e quindi cercano di comprarsi in qualsiasi modo e di essere i duri e di comprarsi in qualsiasi modo con soldi, con tutto il rispetto. Tant'è che è stato cancelled praticamente 3-4 volte, è un personaggio un po' controverso, ma io non ho niente contro di lui, anzi, insomma, per arrivare a combattere comunque un match devi avere un po' di allenamento, devi comunque allenarti, devi essere bravo e quindi tanto di cappello. Però dall'altra parte, nonostante ti abbia fatto tre anni di box, non hai un boxer, hai Mike Tyson. Stiamo parlando di qualcuno che è cresciuto facendo a botte e a pugni per vivere con una tigre in casa come animale domestico e è andato in prigione per mille cose, aver picchiato i poliziotti sul ring e anche diventato tre volte più grosso quando è uscito. Tutti i boxer avevano paura di Mike Tyson, quindi diciamo che, nonostante abbia comunque quasi 60 anni, non è che secondo me cambia così tanto. Anzi, secondo me la cosa che ha 60 anni è stato un po' un camuffamento, una scusante per lo show. Ma adesso ne parliamo, facciamo la reaction. Ok, 3, 2, 1, partiamo. Allora, all'inizio, diciamo che lo vediamo anche che è andata abbastanza, tra virgolette, bene. Nel senso che si vedeva un po' qualcosa. Poi si è notato, è comunque una cosa che già si sapeva, non 10 round, ma 8, e già iniziava a suonare un campanello d'allarme. Non i guantoni normali, ma sembrano i guantoni, quelli da sparring, un po' più gonfi, no? E non 3 minuti a round, ma 2 minuti. E quindi, guardate, qua siamo al terzo round, e vedete già Mike che inizia a tirare qualche pugno, ma a un certo punto, qua non lo fanno vedere probabilmente, ma c'era Jake che continuava a fare clinch, avvicinarsi a Mike, quando tirava pugni forti, e più lo faceva e più Mike rimaneva fermo. E ho visto dei video su Instagram che mi hanno inviato i miei amici, in cui facevano vedere che Jake parlava in quei momenti a Mike. E infatti vedete che c'è Mike, in questo momento è fermo. Fermo. Guardate, fermo, completamente. E in tutta la sua carriera, non era neanche il suo modo di combattere. Il suo modo di combattere è tipo schivare, comunque, essere... Guarda, non tira neanche un pugno. Anche Jake è comunque un po' trash. Cioè, cos'è? 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 Non lo so, non lo so, Rick. Ottavo round, non è successo ancora niente, e quindi eravano tutte lì così. Guardate quelli dietro. Quelli dietro. Che cos'è così? Ma perché ho fermato per questa cosa? Mamma mia. Poi questa cosa super egocentrica di cercare di salvarsi la pelle facendo finta di essere umili. E il vincitore è... Jake. Ecco. Ma guardate le facce. Questo voglio farvi notare. Guardate Jake e Logan. Non stanno festeggiando. E adesso vi spiego il mio ragionamento. Allora, ho sperato fino all'ultimo e pensavo che non fosse scriptato. Alcuni diranno, è ovvio, altri dicono, ma sei matto, non è scriptato. Diciamo che l'internet un po' si divide. Diciamo che dopo aver fatto varie ricerche ho capito che potevano esserci tre opzioni. Uno, era tutto scriptato. Netflix, hanno pagato, finita lì. Era tutto per fare pubblicità a Jake Paul. Mike si è portato a casa i suoi soldi e via. Due, era autentico e Mike semplicemente nei suoi anni... avendo 60 anni diciamo che, vabbè, insomma ha fatto qualcosa ma non voleva fare chissà che. E quindi tutto questo cosa light era per quello. Tre, una via di mezzo. E sono sempre più convinto che la via di mezzo sia la risposta. Perché, secondo me e ditemi cosa ne pensate fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate secondo me quello che è successo è è uno show di Netflix. Mike Tyson ha circa 60 anni. E' la perfetta scusante per farlo perdere ma senza fargli fare brutta figura. Parliamoci chiaro se avesse vinto sembrerebbe stato un po' strano. Diciamo, hanno fatto tutto questo hype gigantesco un sacco di spettatori tra l'altro Netflix è anche crashata quindi tanta gente si è lamentata ma a parte quello un sacco di soldi e alla fine Jake avrebbe perso è lui che ha organizzato il tutto è lui che ha dato il via al tutto. Ci sono state, secondo me, delle linee guida per cui Mike doveva comportarsi in un certo modo Jake in un certo modo e la vittoria sarebbe stata di Jake ma facendo fare diciamo non brutta figura nessuno dei due. Erano tutti molto amichevoli non sembrava uno scontro anche durante le interviste eccetera e basta e quindi diciamo che Mike se l'è vista un po' come un non un boxing match cioè non era un incontro di box ma era uno show in cui è stato pagato 20 milioni di dollari se non di più per essere invitato fare un po' di sparring leggero come se lo stesse facendo con suo nipote e tornare a casa. Alla fine quello che ha fatto nella storia non è cambiato si è fatto comunque pubblicità perché alla fine al giorno d'oggi purtroppo pubblicità positiva negativa non cambia tanto e semplicemente ha accettato si è fatto questa scena ed è tornato a casa comunque con rispetto tra virgolette di tutti con la scusante e questo è stato possibile con la scusante dei suoi anni perché col fatto che a totta età quelli che hanno capito hanno detto vabbè è stato pagato comunque possiamo capirlo era in bancarotta ha speso i suoi soldi male nella sua vita ha passato un sacco di robe strane vabbè non mi piace ma è comunque rimane Mike Tyson quelli che non l'hanno capito dicono eh ma è perché è vecchio quindi ci sta anzi bravo tanto di cappello che si è riuscito a combattere quindi in ogni caso lui si salvava la faccia quindi alla fine per Mike Tyson lui se ne tornava a casa comunque contento per quello ha accettato Jake Paul stessa roba alla fine pubblicità soldi e tutto gli sono arrivati e quindi secondo me la cosa era e voi dite ma no Marco ma era vecchio ragazzi se voi guardate non solo le scene come vi ho detto in cui sembra proprio Jake che parla e dice script script durante l'incontro a Mike non solo vedete alcune scene degli allenamenti pre di Mike Tyson ed è una belva è fortissimo non importa ha quasi spaccato il labbro per sbaglio al suo allenatore facendo cose incredibili che non c'ha nemmenamente c'è proprio zero non c'ha proprio neanche provato durante il combattimento tre tutta la storia light dei guantoni eccetera e quattro ho guardato un'intervista del suo ex allenatore di Mike Tyson che quindi lo conosce benissimo in cui dice se l'incontro non è scriptato per Netflix Mike fa K.O. a chiunque non importa chi è davanti non avrebbe nessun problema a fare K.O. non importa l'età perché la forza e i pugni sono l'ultima cosa ad andarsene anche perché comunque si è allenato tutta la vita e quindi e si è ripreparato per questa cosa e quindi dici in effetti è Mike Tyson hanno fatto anche che vincesse Jake per avere più critiche quindi più views più viralità e ultima cosa a fine incontro vedete Mike che al microfono dice sono contento eccetera eccetera gli chiedono ma sarà il tuo ultimo incontro e lui dice di no ma a 60 anni secondo voi una persona che non sa già che deve combattere il nuovo dice di no è perché è tutto fatto per creare un altro show un'altra cosa probabilmente in cui lo faranno vincere probabilmente in cui non lo so affronterà Logan affronterà qualcun altro è tutto questione di soldi è tutto questione di attenzione essere al giorno d'oggi veramente è tutto basato sull'attenzione e voi dite vabbè ma Mike alla fine è persino sulla mia vision board delle persone che rispetto di più perché ha raggiunto un livello di maestria incredibile nella sua vita in qualcosa nonostante comunque abbia fatto delle cose un po' strane nella vita e i suoi errori li ha fatti però l'abbiamo visto anche nell'intervista con Sadhguru in cui si vede che pian piano lui è arrivato ad avere una certa pace un po' ha sconfitto comunque ha lavorato sui fantasmi del suo passato quindi in realtà tanto rispetto per questa persona Iron Mike e quindi diciamo che in realtà un po' tra virgolette Mike lo si capisce perché alla fine lui è in pensione sembrava un po' il nipote con il con il nonno giocare fare un po' di sparring ma allo stesso tempo secondo me Jake Paul ci ha fatto una figura orribile cioè secondo me faceva molta più bella figura a far rimanere tutto autentico non doveva per forza essere un incontro di box poteva essere uno show poteva essere uno sparring poteva essere che lui perdeva veramente faceva un incontro davvero con Mike Tyson se quel era il suo sogno non che era tutto finto allora che senso ha cioè tutta la tua vita poi è palese dentro di lui sa che non ha battuto Mike Tyson e quindi che soddisfazione personale ti dà è solo tutto finto tutta apparenza e purtroppo cioè gli influencer di adesso quelli grossi americani purtroppo vanno in quella direzione lì quell'intrattenimento finto in cui l'attenzione è l'unica cosa che conta come vediamo Jeremy Fragrance che fa qualsiasi cosa per ottenere views come vediamo MrBeast tutto clickbait soldi fama numeri ma in realtà a me piacevano e penso alle persone tutti piacciono quei quelli youtuber di una volta PewDiePie Jacksepticeye tutte quelle persone vere che comunque sono rimaste vere che portavano la propria community qualcosa di vero e quindi purtroppo diciamo che tutta questa cosa un po' falsa il giorno d'oggi è rimasta un po' così e ultima cosa e ditemi e con questa secondo me confermo il tutto se vedete a un certo punto dopo che è successa quella cosa lì Mike è talmente fermo che se voi dite è palese che quindi è stato scriptato l'abbiamo capito ma secondo me se voi guardate la faccia di Jake e di Logan alla fine dell'incontro non erano particolarmente contenti non hanno festeggiato tanto perché secondo me Mike siccome non gliene frega niente comunque i suoi soldi li prende e ha fatto quello che gli hanno detto di fare sotto le linee guida comunque l'ha reso abbastanza palese un po' troppo palese e non doveva essere così palese secondo me doveva essere un po' più combattuto e quindi diciamo che l'hanno fatta poi camuffare con l'idea che lui è vecchio quindi chi non ne sa di intrattenimento chi non ne sa di box è ma perché è vecchio ma Mike alla fine facendo così non facendo niente esagerando le linee guida lo script cosa ha fatto chi ha capito perché conosce la box e lui l'intrattenimento chi ha capito rispetta Mike per questa cosa qua chi non ha capito è vabbè ma è vecchio quindi Mike ci ha salvato comunque la pelle quindi in realtà vabbè questa è la mia opinione e mi sto accorgendo di quanto la fama questa fama che ad esempio Mike è una di quelle persone entrate un po' nella storia quel tipo di fama lì non si può non si può più avere perché nonostante secondo me la fama di adesso è un po' migliore perché se una persona si crea una community pian 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 autentica quella è la cosa migliore di fama e tutti al giorno d'oggi possono un po' creare la propria community ma una volta diciamo che il mondo non era esposto c'era solo Hollywood o quelle due tre cose di media tradizionali e se qualcuno finiva lì erano tutti normali e poi quelle 5-10 persone famose e quindi eri veramente famose entravi nella storia al giorno d'oggi invece sono tutti un po' lì lì con i social eccetera sono tutti un po' lì lì tutti possono comunque avere la propria community creare cose eccetera e quindi è difficile essere un po' quel entrare nella storia a livello di Mike Tyson per dire quindi diciamo quanto la fama soprattutto al giorno d'oggi sia una cosa effimera sia una cosa veramente che pensi di afferrarla per un attimo ti senti in cima al mondo anche nel mio piccolo avevo vissuto questa cosa quando ero andato a Miami e avevo vinto Mr. World eccetera eccetera c'è Mr. Model International e tutto ma poi dopo un giorno si parla subito di altro perché c'è continuo ricambio e quindi devi fare qualcosa per tornare in vita se no ti senti che hai già dato che è come se fossi morto e quanto adesso sia tutto così diciamo camuffato e quindi secondo me come vi dicevo la questione invece di creare una propria community di gente che ti vuole bene e ti apprezza per essere te stesso autentico quella secondo me è la forma migliore se vogliamo essere importanti aiutare le persone in qualche modo la tecnologia perché alla fine se non utilizziamo la tecnologia per aiutarci a vicenda e migliorare l'essere umano per cosa la stiamo usando è uno strumento incredibile ma va utilizzato correttamente fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video